Sale la protesta dei risparmiatori che hanno perso migliaia di euro nel crack di quattro banche. Banca Popolare di Etruria del Lazio, Banca Marche, Banca Cari Ferrara e Carichieti, salvati di recente dal governo. Il Comitato Vittime del SalvaBanche annuncia di chiudere i conti e spostarli in altri istituti di credito, che godono, dicono, di una vigilanza più attenta rispetto a quella che è stata in grado di fornire Banca Italia. Non sono affatto preoccupato, perché penso che debba prevalere il buonsenso. Replica il presidente dei quattro nuovi istituti di credito, Roberto Nicastro, che assicura sono solidi e liquidi, sicurissimi, e punta a chiudere le loro gestioni a istituzioni italiane e estere entro la prima metà del 2016. Abbiamo già interessi significativi da parte di banche italiane e straniere, ha aggiunto ancora Nicastro, banche che parteciperanno all'asta pubblica. Quanto ad eventuali rimborsi ai risparmiatori che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate, i paletti fissati dall'Unione Europea sono precisi e rigidissimi, aggiunge ancora il presidente, che ha ricordato come all'Italia sia stato imposto un diktat con una durezza senza precedenti. Intanto il comitato vittime del salva banca, appoggiato dall'organizzazione dei consumatori, minaccia di svuotare i conti correnti e di portarli presso istituti che godono di una vigilanza più attenta, quindi banche straniere e molto probabilmente svizzere. Adusbef e Federconsumatori hanno calcolato che nei portafogli titoli delle banche italiane ci sarebbero almeno 60 miliardi di euro in obbligazioni subordinate, quindi ad alto rischio, ma ad alto rendimento. Infatti i clienti delle quattro banche che si sono visti bruciare i propri risparmi perché incautamenti o mal consigliati hanno investito in titoli ad alto rischio, come le obbligazioni subordinate.